Siamo collegati con l'Aula Paolo VI in Vaticano per seguire la consueta udienza generale del mercoledì. Per questo trentesimo incontro del 2010 sono presenti circa 7.000 fedeli, secondo quanto indicato dalla Prefettura della Casa Pontificia. Ieri sera la musica è stata protagonista nella residenza estiva di Castel Gandolfo. In onore del Papa, infatti, la Pontificia Accademia delle Scienze ha offerto un concerto durante il quale è stata eseguita la messa da Requiemire Minore di Mozart. Un'occasione che ha riempito di gioia il Pontefice. Tale opera, infatti, ha precisato il Papa nel corso del suo saluto. È un'alta espressione di fede che ben conosce la tragicità dell'esistenza umana e che non tace sui suoi aspetti drammatici. E perciò è un'espressione di fede propriamente cristiana, consapevole che tutta la vita dell'uomo è illuminata dall'amore di Dio. In Mozart, ha proseguito Benedetto XVI, ogni cosa è in perfetta armonia, ogni nota, ogni frase musicale. È un dono questo della grazia di Dio, ma è anche il frutto della viva fede di Mozart, che, specie nella sua musica sacra, riesce a far trasparire la luminosa risposta dell'amore divino, che dona speranza anche quando la vita umana è lacerata dalla sofferenza e dalla morte. Il requiem, ha concluso il pontefice, appunto ieri sera, a conclusione del concerto offerto dalla Pontificia Accademia delle Scienze, ci conduce ad amare intensamente le vicende della vita terrena come doni di Dio e ad elevarci al di sopra di esse, guardando serenamente alla morte come alla chiave, per barcare la porta verso la felicità eterna. Domenica scorsa, invece, Benedetto XVI si è arrecato in visita pastorale a Carpineto Romano in occasione del bicentenario della nascita di Leone XIII. Tra i monti Lepini, il Papa ha celebrato la Santa Messa e ha esaltato l'eredità di Papa Pecci, un uomo di grande fede e di profonda devozione. In un'epoca di aspro anticlericalismo e di accese manifestazioni contro il Papa, il 256esimo Vescovo di Roma seppe guardare e sostenere i cattolici sulla via di una partecipazione costruttiva, ricca di contenuti, ferma sui principi e capace di apertura. Con l'arrivo di Benedetto XVI in aula Paolo VI in Vaticano si apre dunque questo consueto incontro del mercoledì che verrà dedicato, come annunciato da Benedetto XVI scorso mercoledì, sempre durante l'udienza generale, a Santa Hildegarda di Bingen, monaca claustrale tedesca, vissuta nel primo secolo dell'anno 1000. Il Santo Padre, da ora inizio all'udienza generale che introdurrà con il segno della croce e il saluto liturgico. Prepariamoci ad accogliere la Sua parola e ricevere la Sua benedizione. in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Cari fratelli e sorelle, oggi vorrei riprendere e continuare la riflessione su Santa Hildegarda di Bingen, importante figura femminile del Medioevo che si distinse per saccezza spirituale e santità di vita. Le visioni mistiche di Hildegarda assomigliano a quelle dei profeti dell'Antico Testamento, esprimendosi con le categorie culturali e religiose del suo tempo, interpretava nella luce di Dio le Sacre Scritture, applicandole alle varie circostanze della vita. Così tutti coloro che le ascoltavano si sentivano esortati a predicare uno stile di esistenza cristiana in una lettera a San Bernardo, la mistica renana confessa, «La visione avvince tutto il mio essere. Non vedo con gli occhi del corpo, ma mi appare nello spirito dei misteri. Conosco il significato profondo di ciò che è esposto nel Salterio, nei Vangeli e in altri libri che mi sono mostrati nella visione. Questa brucia come una fiamma nel mio petto e nella mia anima e mi insegna a comprendere profondamente il testo». Le visioni mistiche di Hildegarda sono ricche di contenuti teologici, fanno riferimento agli avvenimenti principali della storia della salvezza e adoperano il linguaggio principalmente poetico e simbolico. Per esempio, nella sua opera più nota intitolata «She Vias», cioè «Conosce le vie», è la riassume in 35 visioni gli eventi della storia della salvezza dalla creazione del mondo alla fine dei tempi. Con i tratti caratteristici della sensibilità femminile, Hildegarda, proprio nella sezione centrale della sua opera, sviluppa il tema del matrimonio mistico tra Dio e l'umanità realizzato nell'Incarnazione. Sull'albero della croce si compiono le nozze del Figlio di Dio con la Chiesa, sua sposa, ricolma di grazie e resa capace di donare a Dio nuove figlie nell'amore dello Spirito Santo. Già da questi brevi accenni vediamo come anche la teologia possa ricevere un contributo peculiare dalle donne perché esse sono capaci di parlare di Dio e dei misteri della fede con la loro peculiare intelligenza e sensibilità. Incoraggio perciò tutti coloro che svolgono questo servizio, accompialo con profondo spirito ecclesiale, alimentando la propria riflessione con la preghiera e guardando alla grande ricchezza ancora in parte inesplorata della tradizione mistica medievale, soprattutto a quella rappresentata da modelli luminosi come appunto il de Garda di Bingen. La mistica rinana è autrice anche di altri scritti, due dei quali particolarmente importanti perché riportano come lo scivias le sue visioni mistiche. Sono il Libra Vitae Meritorum, Libro dei Meriti della Vita, e il Libra Divinorum Operum, Libro delle Opere Divine, denominate anche di Operazione Dei. Nel primo viene descritta un'unica e poderosa visione di Dio che vibifica il cosmo con la sua forza e con la sua luce. Il de Garda sottolinea la profonda relazione tra l'uomo e Dio e ci ricorda che tutta la creazione di cui l'uomo è il vertice riceve vita dalla Trinità. Lo scritto è incentrato sulla relazione tra virtù e vizi, per cui l'essere umano deve affrontare quotidianamente la sfida dei vizi che lo allontanano nel cammino verso Dio e le virtù che lo favoriscono. L'invito è ad allontanarsi dal male per glorificare Dio e per entrare dopo un'esistenza virtuosa nella vita tutta di gioia. Nella seconda opera considerata da molti il suo capolavoro descrive ancora la creazione nel suo rapporto con Dio e la centralità dell'uomo manifestando un forte cristocentrismo di sapore biblico-patristico. La Santa, che presenta cinque visioni ispirate dal prologo del Vangelo di San Giovanni, riporta le parole che il Figlio rivolge al Padre. Tutta l'opera che tu hai voluto e che mi hai affidato io l'ho portata a buon fine ed ecco che io sono in te e tu in me e che noi siamo una cosa sola. In altri scritti, infine, il De Garda manifesta la versatilità di interessi e la viva città culturale dei monasteri femminili del Medioevo contrariamente ai pregiudizi che ancora gravano su quell'epoca. Il De Garda si occupò di medicina e di scienza naturale come pure di musica essendo dotata di talento artistico. Compose anche inni, antifoni e canti raccolti sotto il titolo Sinfonia Armonia Celestium Revelationum Sinfonia dell'Armonia delle Rivelazioni Celesti. che venivano gioiosamente eseguiti nei suoi monasteri diffondendo un'atmosfera di serenità e che sono giunti anche a noi. Per lei la creazione intera è una Sinfonia dello Spirito Santo che in sé stesso gioia e ciubilo. La popolarità di cui Il De Garda era circondata spingeva molte persone a intappellarla. Per questo motivo disponiamo di molte sue lettere. A lei si rivolgevano comunità monastiche, maschili e femminili, vescovi e abati. molte risposte restano valide anche per noi. Per esempio, a una comunità religiosa femminile Il De Garda scriveva così La vita spirituale deve essere curata con molta dedizione. All'inizio la fatica è amara perché esige la rinuncia all'estrosità, al piacere della carne e ad altre cose simili. Ma se si lascia affascinare dalla santità, un'anima santa troverà dolce e amorevole lo stesso disprezzo del mondo. Bisogna solo intelligentemente fare attenzione che l'anima non avvizzisca. E quando l'imperatore Federico Barbarossa causò uno scisma ecclesiale opponendo ben tre antipapi al papa legittimo Alessandro III Il De Garda ispirato dalle sue visioni non esitò a ricordarli che anche egli l'imperatore era assocetto al giudizio di Dio con l'audacia che caratterizza ogni profeta egli scrisse agli imperatori queste parole da parte di Dio guai 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 a questa malvagia condotta degli empi che mi disprezzano presta ascoltori se vuoi vivere altrimenti la mia spada ti traficciarà con 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 l'autorità spirituale di cui era dotata negli ultimi anni della sua vita il De Garda si mise in viaggio nonostante l'età avanzata e le condizioni disacevoli degli spostamenti per parlare di Dio alla gente tutti l'ascoltavano volentieri anche quando adoperava un tono severo la consideravano una messaggera mandata da Dio richiamava soprattutto le comunità monastiche e il clero a una vita conforme alla loro vocazione in modo particolare il De Garda contrastò il movimento dei catari tedeschi essi catari alla letta significa puri propugnavano una riforma radicale della Chiesa soprattutto per combattere gli abusi del clero lei li rimproverò aspramente di voglia sovvertire la natura stessa della Chiesa ricordando loro che un vero rinnovamento della comunità ecclesiale non si ottiene tanto con il cambiamento delle strutture quanto con un sincero spirito di penitenza e un cammino operoso di conversione e questo è un messaggio che non dovremo mai dimenticare invochiamo sempre lo Spirito Santo affinché suscitino nella Chiesa donne sante e coraggiose come Santa Ildigarda di Bingen che valorizzando i doni ricevuti da Dio diano il loro prezioso e peculiare contributo per la crescita spirituale delle nostre comunità e della Chiesa nel nostro tempo grazie prezioso che benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé porti a cette intention ciascuno 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 che aveva una personale di comun abbess benedictine fondatrice del monastere predicatrice e consellera di personale di son tempo naturalista e medicina musicina e peintra ma è soprattutto una visionaria e grande mystica del XII sec rinom après aver ricevuto l'encouragement di bernard e l'approbation del pape Eugène III e resum su vision dans su l'ouvrage le plus connu les chivias conna les voies e s'en composi dans un langage enrichi par la sensibilité féminine e sont un solide fondement christologico et biblico patristico e traite entre autres du thème du mariage mystique entre die e l'humanità réalisit dans l'incarnation e de celui des noces entre le christ et l'église célibait sur l'arbre de la croix la pensée d'il des gardes culmine dans la description de la création dans son rapport avec Dieu l'homme en est le centre et la création symphonie de l'esprit saint reçoit sa vie de la sainte trinité surnommée la prophétesse teutonique elle passa les dernières années de sa vie à parler de Dieu et à conseiller encourageant à approfondir la vie spirituelle et à mener une vie chrétienne cohérente chacun selon sa propre vocation chers fraiseurs saint illégate nous montre combien les femmes sont capables de parler de Dieu et des mystères de la foi avec leur spécificité propre puisse l'esprit s'insusciter dans l'église des femmes saintes et courageuses qui valorisent les dons reçus de Dieu pour donner leurs précieuses contributions spirituelles à la croissance de nos communautés je salue les pèlerins francophones présent particulièrement les pèlerins venus de Metz et de Saint-Just d'Arbois je ne désire pas oublier le secrétaire et les membres de l'assemblée parlementaire du conseil de l'Europe qui ont tenu à être présents ce matin ainsi que des membres de l'association de retraite et du ministère des affaires étrangères puissiez-vous à l'exemple de Saint-Hilde des continuer à chercher Dieu Bon pèlerinage à tous Dear brothers and sisters in our catechesis and medieval christian culture we turn again to Saint-Hilde of Pingen the great nun mystique of the 12th century Hildegard celebrated visions vividly interpreted the word of God for her contemporaries calling them to a committed christian life she brought her women's insight to the mysteries of faith in her many works she contemplated the mystic marriage between God and humanity accomplished in the incarnation as well as the universal union of Christ and the church she also explores the vital relationship between God and creation and our human calling to give glory to God by a life of holiness and virtue Hildegard's musical compositions reflect her conviction that all creation is a symphony of the Holy Spirit who is himself joy and jubilation her vast learning and spiritual authority also led her to work for the renewal of the church in her day through St. Tildegard's intercession let us ask the spirit to raise up wise holy and courageous women whose God given gifts will enrich the life of the church in our own time I am pleased to greet the communication seminar sponsored by the Pontifical University of the Holy Cross and for prayerful good wishes for their work upon all the English speaking visitors present to this audience especially the pilgrim groups from England Wales Scotland Ireland Sweden Nigeria Indonesia Canada and the United States of America I invoke God's abundant blessings I am very much looking forward to my visit to the United Kingdom in a week's time and I send heartful greetings to all the people of Great Britain I am aware that a vast amount of work has gone into the preparations for the visit not only by the Catholic community but by the government the local authorities in Scotland London and Birmingham the communications media and the security services and I want to say how much I appreciate the efforts that have been made to ensure that the various events planned will be truly joyful celebrations above all I thank the countless people who have been praying for the success of the visit and for a great outpouring of God's grace upon the church and the people of your nation it will be a joy for me to beatify the Venerable John Henry Newman in Birmingham on Sunday 19 September this truly great English man lived an exemplary priestly life and so extensive writings made a lasting contribution to church and society both in his native land and in many other parts of the world it is my hope and prayer that more and more people will benefit from his gentle wisdom and be inspired by his example of integrity and holiness of life I look forward to meeting representatives of the many different religious and cultural traditions that make up the British population as well as civil and political leaders I am most grateful to her majesty the queen and to his grace the archbishop of canterbury for receiving me and I look forward to meeting them while I regret that there are many places and people I shall not have the opportunity to visit I want you to know that you are all remembered in my prayers God bless the people of the United Kingdom heiliger vater die pilger und besucher aus den ländern deutscher sprache liebe brüder und schwestern vorige woche habe ich über das leben der heiligen Hildegard von bingen gesprochen aber auch als buß predigerin und als beraterin von geistlichen und weltlichen größen aus ihrer fähigkeit zur mystischen schau heraus hat hildegard zahlreiche schriften verfasst ihr bekanntestes werk jivias das heißt wisse die wege stellt in einer reihe von visionen die gesamte heilsgeschichte von der schöpfung bis zum jüngsten gericht dar alles irdisch ist zeichen für entwickelt die heute neues interesse findet sie hat musik geschaffen die heute wieder rekonstruiert wird und sie ist poetisch gewesen vor allen dingen aber eine große frau die sowohl zu den einfachen menschen von gott zu sprechen vermochte wie sie den mächtigen gegenüber furchtlos das wesentliche verkündet und sie auf den richtigen weg gerufen hat wir sind dankbar dass gott der kirche solche große frauen geschenkt hat und vertrauen darauf dass er auch in unserer zeit solche frauen der kirche wieder neue schenkt von herzen grüße ich alle deutschsprachigen pilger und besucher besonders die delegation deutscher richter und staatsanwälte für die heilige hildegard gibt es wachstum nur wenn alles aufeinander bezogen wechselseitig verbunden in gott vereint ist auch unsere menschliche gemeinschaft soll wachsen die harmonie durch schöpfung weiterführen in einem gebenseitigen geben und empfangen der heilige geist schenkt uns innere bereitschaft als brüder und schwestern diese welt zu gestalten gott segne euch alle diurie misterios de la historia de la salvación presentados con una notable profundidad teológica y con su peculiar inteligencia sensibilidad femenina además de su producción teológica y moral y digarde abordó temas relativos a la medicina las ciencias naturales o la música cosa de gran popularidad en su época por lo que numerosos obispos y abades mantenían correspondencia con ella consultándole muchos de los problemas que se les planteaban en los últimos años de su vida se dedicó también a hablar de dios a la gente subrayando especialmente la necesidad de una continua conversión en la vida monástica y sacerdotal saludo a los peregrinos de lengua española en particular a los fieles de la diócesis de Tula en México bienvenidos que están celebrando el 50 aniversario de la creación de esa diócesis a los médicos administrativos de la arquidiócesis de Salta en Argentina así como a los demás fieles provenientes de España México Panamá El Salvador Honduras y otros países latinoamericanos invoquemos al Espíritu Santo para que suscite siempre en la iglesia mujeres santas que contribuyen al crecimiento espiritual de nuestras comunidades muchas gracias queridos hermanos y hermanas Santa Hilda Garda importante figura femenina de la edad media distinguió por su sabiduría espiritual y santidad de vida en sus escritos y contactos sublime la profunda relación entre hombre y Dios recordando que toda creación en cujo vértice este ser humano recibe vida de la Santísima Trindad cuando Frederica Barbaruiva causó un monstismo eclesial opondo varios antipapas al papa legítimo Alessandro III Hildegarde recorda al imperador que también él estaba sujeito al juicio de Dios y a cuando se invocava una reforma radical de igreja pondo en risco su verdadera natureza lembra que una auténtica renovación no se obtiene tanto como mudanza de estructuras como sobretudo como un sincero espíritu de penitencia y un real camino de conversión Amados peregrinos de língua portuguesa mi saudación fraterna y agradecida para todos comenzar especial para los grupos de feitos de amor en portugal y las paróquias del divino espíritu santo y santo joao batista en rio de janeiro santo rita de cássia y santo senhora maia de igreja em belo horizonte que esta peregrinação aroma fortaleza nos vossos corações o sentir o viver em igreja a exemplo de santa iligarda sobre o terno olhar da virgen maia a ela confia os anseios bons que aqui vos traugiram o papa ama vós e a todos abenço no senior oj 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 Grazie a tutti. 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 Cari amici, con la forza dello Spirito Santo siate coraggiosi testimoni di Gesù e del suo Vangelo in famiglia, nella scuola, in parrocchia e con i vostri coetanei. Saluto i monaci dell'Ordine Cisterciense, che in questi giorni stanno celebrando il loro capitolo generale ed auguro loro di impegnarsi con rinnovato slancio spirituale e apostolico per cooperare generosamente nell'opera della nuova evangelizzazione. Mi rivolgo infine ai giovani, agli ammalati, agli sposi novelli qui presenti. Oggi celebriamo la memoria liturgica della Natività della Beata Vergine Maria. Il Concilio Vaticano II dice che Maria ci precede nel cammino della fede perché ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Per voi giovani, chiedo alla Vecine Santa il dono di una fede sempre più matura. Per voi ammalati una fede sempre più forte. E per voi, cari sposi novelli, una fede sempre più profonda. E per voi, cari sposi novelli, una fede sempre più matura. E per voi, cari sposi novelli, una fede sempre più matura. E per voi, cari sposi novelli, una fede sempre più matura. E per voi, cari sposi novelli, una fede sempre più matura. E per voi, cari sposi novelli, una fede sempre più matura. Amén. 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 Benedetto XVI caduto nella memoria liturgica della Natività della Beata Vergine Maria. Dedicando questo incontro tradizionale del mercoledì alla figura di Santa Hildegarda di Bingen, figura importante femminile del Medioevo che si distinse per la saggezza spirituale e santità, Benedetto XVI ha sottolineato l'importante ruolo che possono svolgere le donne nel nostro tempo nella crescita spirituale delle comunità e della Chiesa. Ricordando appunto questa profetessa tedesca, Benedetto XVI ne ha tratteggiato la santità, l'eredità che lascia ai nostri tempi, richiamando ovviamente i suoi scritti, anzitutto Scivias, nel quale con peculiare intelligenza e sensibilità Santa Hildegarda tratteggia il rapporto mistico tra Dio e l'umanità realizzato nell'incarnazione ed ancora il rapporto sponsale tra il Figlio di Dio e la Chiesa. E ancora nella relazione tra l'uomo e Dio, Benedetto XVI ha ricordato come lo scritto di Santa Hildegarda sia incentrato sulla relazione tra virtù e vizi per cui l'essere umano deve affrontare quotidianamente la sfida dei vizi che lo allontanano nel cammino verso Dio e le virtù che lo favoriscono. L'invito, ha detto Benedetto XVI, è ad allontanarsi dal mare per glorificare Dio e per entrare dopo un'esistenza virtuosa nella vita tutta di gioia. Nel corso della Catechesi il Papa ha ricordato come con l'autorità spirituale di cui era adottata negli ultimi anni della sua vita, Hildegarda si mise in viaggio nonostante l'età avanzata e le condizioni disagevoli degli spostamenti per parlare di Dio. Tutti l'ascoltavano, ha precisato il Papa volentieri, anche quando adoperava un tono severo già che la consideravano una messaggera mandata da Dio e richiamava soprattutto le comunità monastiche e il clero a una vita conforme alla loro vocazione. Sempre parlando di questa eminente figura del Medioevo, Benedetto XVI ha ricordato che un vero rinnovamento della comunità ecclesiale non si ottiene tanto con il cambiamento delle strutture quanto con un sincero spirito di penitenza e un cammino operoso di conversione. E poi nei saluti lingua, in modo speciale appunto quello in inglese, il Papa ha espresso tutta la trepidazione con cui guarda l'imminente viaggio in Gran Bretagna appunto la prossima settimana. Nel saluto in lingua inglese il Papa ha voluto esprimere tutta la propria gratitudine per quanti hanno lavorato alla realizzazione di questo viaggio contribuendone alla buona riuscita e ha voluto precisare come tutte le persone che incontrerà, così come quelle che non avrà modo purtroppo di incontrare per questioni di tempo, sono nelle sue preghiere. A me non resta che darvi appuntamento dunque a domenica per seguire insieme la recita dell'Angelus. In chiusura il mio grazie va ai tecnici del Centro Televisivo Vaticano e a quelli della Radio Vaticana che hanno reso possibile questo collegamento in diretta. A voi tutti un buon proseguimento di giornata da Barbara Castelli.